Due corpi riversi a terra in una pozza di sangue, entrambi con ferite inferte, probabilmente con un coltello o un oggetto appuntito. A scoprirli, verso l'ora di pranzo, una delle figlie è passata a casa dei genitori in via Galilei, a San Martino di Lupari, preoccupata del fatto che non rispondessero da ora al telefono. La figlia è scoperto per primo il padre, ancora vivo, agonizzante, in cucina, poi è salita al primo piano, in camera, dove ha scoperto la madre, Maria Angela Sarto, 84 anni, morta. Inmediato l'allarme, l'anziano, Giorgio Miatello, è stato portato in ospedale agonizzante, ora è ricoverato in gravi condizioni. Una coppia come tante, secondo i vicini, che non riescono a spiegarsi tanta violenza. Con il papà e la mamma ci incontravamo quasi ogni mattina, magari a bere un caffè, a bere qualcosa e dopo basta. Quindi coppia normale, tranquilla, le figlie? Tranquillissima, le figlie non le conoscevo, sinceramente, però tranquillissime, gente normalissima in pratica, che non si può pensare arrivare a una cosa del genere. L'area è stata subito transennata per consentire ai militari di effettuare i rilievi. Al momento non trappella nulla sulla dinamica dei fatti, ma dai primi riscontri gli investigatori ipotizzerebbero un episodio violento scaturito nella cerchia dei conoscenti. Sarebbe stata fin da subito esclusa la rapina finita male. La porta di casa e gli infissi non presenterebbero forzature e dalle camere non mancherebbero preziosi o oggetti di valore. Perfetti, tutto a posto, nessun problema. Conosci anche le figlie? Ecco, conosco anche le figlie. Siamo sempre assieme, anche al caffè assieme. Non so altro. Coppia normale, tranquilla, le figlie, insomma, in famiglia? Tranquillissimi, no, tranquilla. Tutto là. La figlia che ha scoperto i corpi dei genitori è stata sentita a lungo, mentre l'altra figlia, bassanese di origine ed ex vigile urbano in servizio ad Asolo, è stata cercata a lungo. I carabinieri l'hanno rintracciata nel Vicentino nel tardo pomeriggio, l'hanno portata in caserma per essere ascoltata. Dopo la separazione si era trasferita a San Martino e viveva nell'abitazione attaccata a quella dei genitori. Una testimonianza la sua che potrebbe essere fondamentale per accertare la verità.